Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nata a Catania, figlia di Rori, avvocato civilista, e di Ofelia, all'età di 17 anni inizia a collaborare con Antenna Sicilia, in una trasmissione calcistica dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico della città. Etnea, nell'ottobre 2015, si è laureata in giurisprudenza presso l'Università LUISS S di Roma all'età di 15 anni, partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto 2006, tre anni dopo si presenta a Miss Italia 2009, ma viene eliminata alle preselezioni. All'età di 19 anni, nel 2010, affianca Salvo La Rosa nella conduzione dell'undicesimo festival della nuova canzone siciliana, in onda su Antenna Sicilia, e nel programma di intrattenimento insieme, sulla stessa rete, come Valletta, Diletta Leotta e Loris Cario sono diventati genitori. È nata la loro bimba. La conduttrice di Dazna ha dato alla luce la piccola Aria. L'annuncio del lieto evento è stato dato sui social. Ecco il messaggio congiunto postato dalla neomamma e dal neopapà su Instagram, sia in inglese che in italiano. Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria, sei il regalo più bello che potessimo ricevere. Diletta Leotta nelle storie Instagram ha poi aggiunto anche, best birthday ever, il miglior compleanno di sempre come Didascalia alla foto, che la mostra ricevere, mentre tiene in braccio la neonata Aria. Un affettuoso bacio da Carius con in mano una torta di compleanno.